Il partito di Trescia, delle ore 10.35, proveniente dai fratelli, arriverà a finire i modelli, mentre via a finire la città di Trescia. Il partito di Trescia, delle ore 10.35, proveniente dai fratelli, arriverà a finire la città di Trescia. Trescia, delle ore 10.35, proveniente dai fratelli, arriverà a finire la città di Trescia.